Un percorso di poco più di 270 km da Lucca a Firenze, passando per Collodi, Burgabugiano, Montecatini e Montsummano, quindi salendo sui 341 metri del San Baronto in discesa verso Firenze, via Casalguidi e Dolmi. Così si presenta la gara dei professionisti che domenica 29 settembre chiuderà i campionati del mondo di ciclismo. Un appuntamento in cui gli azzurri si stanno preparando alla definizione della squadra, ha detto il commissario tecnico Bettini, manca oramai poco. L'assatura c'è, manca ancora qualche piccolo dettaglio, ancora qualche giorno di tempo e preferisco prendermelo tutto per poi lunedì prossimo chiudere con le covocazioni. Il percorso ha giunto, Bettini è quasi di casa, molti arredi hanno percorso queste strade tante volte. Uno dei punti più difficili nella fase iniziale della gara sarà il San Baronto, l'unica vera salita della corsa. Dependerà da cosa succederà nei primissimi chilometri, se ci sarà un gruppo ancora abbastanza nervoso non è da sottovalutare questo tratto di percorso. Chi temete di più? Da Sagan a cancellare, agli spagnoli in generale perché gli spagnoli saranno pericolosi, Gilbert che comunque è belga e rimetterà in palio la sua maglia iridata.